Superano quota 500.000 le dosi di vaccino somministrate in Puglia, mentre a Taranto parte la campagna vaccinale a domicilio per gli ultraottantenni, compiuta dai medici di base. Continua di pari passo con la consegna alla campagna vaccinale in Puglia, dove sono state somministrate 534.000 dosi circa, a fronte di 601.000 consegnate. Una percentuale quasi del 90% per una regione che finalmente ha visto la consegna delle dosi anche agli studi dei medici di medicina generale. A Taranto sono partite le somministrazioni a domicilio per gli ultraottantenni non deambulanti o con gravi patologie a cura proprio dei medici di base. Dopo le prime vaccinazioni domiciliari avviate lunedì a cura del Dipartimento di Prevenzione, sono stati consegnati a 66 medici di quasi tutti i comuni della provincia i flaconi di vaccino Moderna, grazie ai quali si potranno vaccinare 726 over 80. Anche in provincia di Foggia prosegue nei piccoli comuni la vaccinazione a domicilio di tutte le persone ultraottantenni non autosufficienti. Ad oggi i medici di medicina generale hanno già somministrato a domicilio 366 dosi in 16 comuni. Sono in programma nei centri vaccinali della ASL Bari circa 1000 vaccinazioni al giorno riservate agli over 80, comprese le somministrazioni delle prime dosi agli ultraottantenni che da mercoledì hanno la possibilità di accedere al nuovo hub della fiera con spazi adeguati e percorsi dedicati. Con una media di 3500 somministrazioni al giorno proseguono l'attività anche gli altri punti vaccinali territoriali della ASL, dove sono in corso le seconde dosi degli over 80 e delle altre categorie previste dai piani ministeriali e regionali. Vaccinazioni anche nei centri diurni, le somministrazioni delle prime dosi, procedono regolarmente con i team degli operatori del Dipartimento di Prevenzione. Si sono infine conclusi le vaccinazioni per il mondo della scuola con un totale aggiornato di 29.012 operatori scolastici vaccinati con la prima dose di AstraZeneca.